In questo video vi mostrerò le top 5 novità di iPadOS 16 La prima top novità di iPadOS 16 è senza dubbio il nuovo multitasking chiamato Stage Control, Stage Manager che si deve attivare dal centro di controllo perché di default è disattivo, quindi viene visualizzato il vecchio multitasking di iPadOS Invece andando qui e attivando questa icona, questa qua, potrete attivare Stage Manager Da questo momento in poi la gestione delle applicazioni cambierà anche un po' la grafica del multitasking ma cambierà soprattutto la gestione, vedete, in finestre di tutte le app in esecuzione Cosa possiamo fare inoltre? Possiamo andare a incrementare o a ridurre la dimensione delle applicazioni Ad esempio adesso voglio aggiungere anche questa qui, che è quella dei suggerimenti che in questo momento neanche funziona ma è solo un dettaglio e vedete possiamo andare a rimpicciolirle o a ingrandirle a seconda delle nostre preferenze Chiaramente ingrandendola al massimo verrà visualizzata come si faceva da sempre su iPad Rimpicciolendola possiamo andare a gestire un po' meglio il tutto Non è proprio un vero e proprio multi view perché come vedete fino a una certa dimensione, cioè questa non si possono avere più di due app in esecuzione Bisogna sì, cliccare, passare all'altra, cliccare qua dietro e passare a questa Non è proprio semplicissimo in alcuni casi però è sicuramente un avanzamento importante e dà un'immersività maggiore che richiama quella del Mac In più, vedete, abbiamo anche la possibilità di richiamare direttamente delle finestre affiancate o delle singole app da quel controllo laterale Quando l'app viene lanciata a schermo intero dai tre pulsantini in alto già introdotti con iOS 15 possiamo scegliere se visualizzare l'app in full screen oppure in modalità, diciamo, stage control nella nuova modalità di iOS 16 Possiamo rimpicciolire così anche l'app quando viene rimpicciolita ma con la visualizzazione del dock spariscono le schede di fianco che però possiamo richiamare sempre con uno swipe laterale È una bella aggiunta secondo me è determinante per rendere iPadOS un sistema operativo desktop direi di no perché c'è ancora un po' di strada da fare però è sicuramente un ottimo primo passo La seconda novità importante è l'arrivo di un'app che tutti aspettavano su iPad ed è Meteo che vedete abbiamo appena lanciato in versione compatta, proprio primo avvio andando ad estenderla chiaramente possiamo anche attivare le notifiche come facciamo su iPhone per maltempo oppure precipitazioni nella prossima ora c'è tutto quello che c'è anche su iOS 16 ma abbiamo una vista molto più ampia, di respiro più ampio con, vedete, le previsioni del tempo le previsioni per i giorni, qui la mappa in basso la qualità dell'aria precipitazioni, vento, tramonto, tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno e poi ci basta cambiare città per avere una nuova previsione insomma è l'app Meteo che finalmente arriva su iPad e anche qui, come vedete, supporta il ridimensionamento del nuovo multitasking di iPadOS 16 un'altra novità interessante è quella che ritroviamo anche su iOS 16 cioè l'isolamento automatico dei soggetti nelle foto basta tenere premuto su un soggetto che può essere una persona, un animale, anche un oggetto in alcuni casi e tramite il riconoscimento intelligente delle immagini di iOS sarà possibile isolare ad esempio appunto questo soggetto e trascinarlo magari in una nota vedete, in questo modo è stato scontornato abbastanza bene certamente si può fare di meglio ma avete visto anche quanto veloce è stata questa operazione e questo scontorno può essere utilizzato nelle note, nei PDF, nelle chat come GIF insomma veramente un'ottima funzionalità inoltre proprio come su iPhone ma su iPad non c'era proprio arriva di default anche per chi non ha un Apple Watch su iPad l'app Fitness vediamola in funzione perché è una prima esclusiva adesso l'app Fitness non solo ci dà accesso chiaramente alle nostre attività fisiche se le abbiamo configurate ma ci permette anche di sperimentare gli allenamenti di Apple Fitness in maniera organizzata e piacevole anche su iPad come sapete è possibile scegliere un allenamento e visualizzarlo direttamente su iPad per permetterci di allenarci con esperti e insieme anche ad una playlist di Apple Music selezionata dal team di Apple l'ultima novità importantissima riguardo il supporto per i monitor esterni migliorati infatti come vedete qui abbiamo la possibilità di switchare dal monitor principale con l'indicatore a quello secondare al monitor esterno ma possiamo andare ad aprire anche nel monitor esterno ad esempio applicazioni come Safari vedete l'abbiamo qui in alto e possiamo utilizzarla proprio come se questo fosse in realtà un MacBook collegato al monitor chiaramente abbiamo anche la possibilità vedete di riposizionare le icone e davvero ormai qui non si riesce più a distinguere cosa sia un iPad e cosa sia un Mac perché di solito quando utilizzo il mio MacBook con questo monitor vedo praticamente le stesse cose quello che noto è un profilo colore leggermente diverso ma ci mancherebbe altro questo è Safari bisogna prendere confidenza più che altro con questi tre pulsantini che sono diversi da quelli del Mac però vedete insomma qua abbiamo anche l'applicazione Slack che stavo usando prima sull'iPad che posso ridimensionare e muovere liberamente sull'interfaccia nell'interfaccia di questo che sembra un Mac OS ma in realtà è iPadOS che esegue alcune finestre qui ed altre qui in basso perché nel frattempo io posso ad esempio aprire sull'iPad le impostazioni e andare a regolare o a cambiare magari lo sfondo vedete se vado a cambiare lo sfondo da qui dovrebbe portare la modifica penso anche sullo schermo principale cioè su quello più grande su quello del Mac vediamo infatti sì lo ha cambiato bene ragazzi quindi queste erano le top 5 novità di iPadOS 16 spero vi siano piaciute se è così lasciate un like al video e iscrivetevi perché seguiranno nuovi approfondimenti sia su iPadOS 16 ma anche sugli altri aggiornamenti di Apple un grande saluto da Andrea e noi ci rivediamo alla prossima ciao 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 ciao